La fotonotizia finale riguarda un'opera collettiva frutto del lavoro degli studenti di Assisi che viene inaugurata oggi in via Enrico Dal Pozzo a Perugia, un progetto curato dagli esperti di formazione che coinvolge sette paesi europei. Un messaggio contro ogni forma di odio che sarà esposto in via Enrico Dal Pozzo fino a fine mese.